Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del telegiornale è dedicata alla pagina politica. A Gela ci sono due segretari del Partito Democratico, uno è Peppe Di Cristina, l'altro è Fabio Collorà, eletto ieri. Frattura insanabile all'interno del PD. Vediamo. Da ieri a Gela ci sono due segretari del Partito Democratico, uno è Peppe Di Cristina, eletto qualche settimana addietro, l'altro è Fabio Collorà, 47 anni, già consigliere comunale. L'investitura è venuta ieri nel corso di una sorta di contro congresso che si è tenuto nei locali del teatro comunale Eschilo. Una vera e propria spaccatura in seno al PD. Due segretari di un partito in una città non si erano mai visti. Io oggi ho definito questo giorno il giorno della libertà, il giorno della liberazione, il giorno della verità, il giorno in cui ci siamo detti tutto faccia e faccia, gli americani direbbero peer to peer alla pari, ci siamo detti tutto ma non per allontanare la gente dalla politica ma per portare più gente possibile alla politica. Noi non faremo altro che traghettare, consegnare questo nuovo partito democratico ad una nuova leva generazionale che condurrà queste città ai fasti e agli splendori di un tempo. Sì ma il dato oggettivo è che a Gela ci sono due segretari. Questa città ormai è stata abituata da lunghissimo tempo ad avere due sindaci, due segretari quindi voglio dire poi come voi mi insegnate nei parti gemellari normalmente rispondete voi a me, dico nei parti gemellari il più grande chi è? Chi nasce dopo? Quindi chiaramente questo è il senso di questo congresso e questo è il senso dell'elezione del nuovo segretario. Oggi bisogna costruire un nuovo partito politico, un nuovo partito politico che riesca ad avvicinare la gente alla politica. La commissione di garanzia provinciale del PD però ha rigettato il ricorso presentato dalla Larenziana, ribadendo che l'elezione di Pepe Di Cristina è legittima. La commissione di garanzia provinciale ha rigettato il ricorso sulla base di una serie di elementi che ritengo che siano assolutamente inconsistenti. Io non l'ho ancora letto il ricorso, pare che sia dovuto al fatto che non ci sia stata la notifica alle persone, la notifica alle persone è stata fatta quando vengono toccati i fatti personali, come in questo caso. La decisione doveva essere presa entro alcuni termini e non l'è stata fatta. Stranamente, in maniera così, voglio dire paradossalmente, stranamente, la decisione viene assunta un giorno prima di un congresso che si pone non in antitesi. Questo, mentre c'è una parte che vuole allontanare la politica, la persona alla politica, noi vogliamo avvicinare la gente a un nuovo modo di fare politica. Noi vogliamo, noi siamo i tragattatori di questo nuovo partito democratico, un partito democratico che vuole restituire alla gente un nuovo modo di fare politica, un modo fatto di libertà ma soprattutto di verità, che sappiamo dirci le cose in faccia per come stanno. Al congresso di mattina hanno preso parte Giuseppe Bruno, presidente dell'Assemblea regionale del PD, ed il deputato regionale Luca Sanmartino. Al termine dei lavori Giuseppe Ferrara è stato letto presidente, fanno parte del direttivo Tiziana Iozza, Sonia Madonia, Esther Galifi, Rosario Prudenti, Andrea Darma e Sandro Di Bartolo. Rocco D'Assenza è stato nominato responsabile organizzativo. In Sicilia bisogna dire basta al PD teatrino e Fausto Raciti deve farsi da parte perché questo PD ha bisogno di un segretario e non di un capo comico. Lo dice Fabrizio Ferrandelli, ex deputato regionale del PD e leader dei coraggiosi a proposito dei due segretari cittadini del Partito Democratico di Gela, eletti in due congressi alternativi a Gela con l'elezione di due segretari cittadini. Aggiunge siamo all'ennesima replica di una commedia fatta di prove muscolari tra correnti e poca politica che non fa altro che allontanare la gente dal PD e alimentare l'antipolitica, il populismo e la demagogia. E infatti tra i due litiganti il Movimento 5 Stelle ha goduto qualche mese fa e continuerà a godere se non si pone fine a questa messa in scena la cui regia è di Raciti. Gela, la città di Crocetta e i Gelesi, conclude Ferrandelli, meritano di più e si aspettano da noi considerando anche la fallimentare esperienza amministrativa dei grillini di questi mesi, un PD serio, aperto e unito e invece continuiamo a essere il loro spot più bello. Non ce lo possiamo più permettere, chi in questo teatrino ha avuto un ruolo deve farsi da parte. Se l'ultimo segretario cittadino Carlo Romano si è dimesso non l'ha fatto di certo per assistere all'elezione di due segretari. Incontriamoci, chiamiamo a raccolta la società e rigeneriamo l'idea di partito. E adesso occupiamoci della manifestazione che si è svolta oggi a Licata sulla grave crisi che attanaglia il comparto agricolo. Presente anche una delegazione gelese, vediamo. E' partita da Piazzale Enzo Baldoni, una delle quattro manifestazioni a difesa del comparto agricolo organizzate in Sicilia nel giorno in cui al Parlamento europeo si riuniscono i ministri dell'agricoltura dei Paesi dell'Unione. Sindaci, agricoltori, organizzazioni di categoria, studenti e cittadini hanno preso parte al corteo che dopo aver attraversato il ponte di via Mazzini ha percorso via Recapriata, Corso Roma prima di giungere davanti al municipio in piazza Progresso. Parecchi primi cittadini della fascia meridionale siciliana presenti alla manifestazione. A fare gli onori di casa il sindaco Angelo Cambiano. Ogni posto di lavoro è vita, quindi dignità del lavoro e dignità di un'intera città e di un'intera economia. Non possiamo competere con un'importazione sconsiderata, non possiamo competere con l'utilizzo di fitofarmaci senza le opportune regole e non possiamo permettere che i lavoratori non riescano a coprire i costi di produzione e qualche centesimo per i loro prodotti, quando poi nella grande distribuzione troviamo i prodotti rincarati di euro senza alcun controllo e senza alcuna tutela. Con Gambiano in testa al corteo ha anche il sindaco di Palma di Montechiaro Amato, quello di Nisce Milarosa, rappresentanti dei comuni di Naro, Campobello e Ravanusa, oltre al primo cittadino di Gerla, Domenico Messinese. L'agricoltura è un'attività economica vera, non è un'attività di serie B, ma anzi dovrei dire che forse è un'attività con una tradizione di millenni e che consente il sostentamento di intere comunità e che consente di poter avere il benessere che un territorio deve avere. Noi all'interno della comunità europea abbiamo di fatto stata distrattata l'agricoltura a vantaggio di altri tipi di produzioni più moderne e più tecnologiche. Bene, questo non è possibile perché per fare gli interessi di pochi mettono a repentaglio la vita di tanti, fra le altre cose non è soltanto il problema degli agricoltori, ma è proprio un problema culturale, civile e di evoluzione. L'agricoltura è stata la tradizione ed è giusto che noi la supportiamo in modo equo. Qua non si chiede di fare cosa eccezionale, ma solo evitare che praticamente venga svenduta l'agricoltura a vantaggio delle multinazionali. È un momento particolare, ci vogliono enormi particolari. È un momento in cui o si fa sentire la voce oppure la voce già ci viene a mancare. C'è molta gente che non è presente perché non è in condizioni più di partecipare. Ormai c'è quella dissuasione, c'è quell'indifferenza. Qualunque proposta che tu fai viene presa e è lasciata scemare piano piano. Adesso basta. L'assessore Cracolici predispone un disegno di legge per la crisi del pomodorino e della grume. Il nostro ministro che se ne va a Bruxelles, i nostri europarlamentari che votano a favore dell'ingresso di 75 tonnellate di olio tunisino. Ci deve essere una linea che va dai comuni, dai sindaci fino ad arrivare a Bruxelles che sia una linea diretta. La presentazione di una interrogazione parlamentare al governo in cui si chiede di adottare provvedimenti in linea con quanto statuito dalla Corte di Cassazione che ha respinto le richieste dell'Avvocatura dello Stato per l'annullamento della conferma del sequestro del muo San Niscemi è stata annunciata dal segretario nazionale dell'Italia dei Valori, Ignazio Messina. La decisione della Cassazione, ha osservato il leader di IDV, fa finalmente chiarezza su questa struttura mostro particolarmente invasiva che provoca rischi per la salute. L'Italia è un paese sovrano e la tutela dei propri cittadini e del proprio territorio deve essere il criterio prioritario che dovrà sempre orientare le scelte politiche. Ora che sul caso Muos è stato messo un punto, ha concluso, si adottino i provvedimenti più adeguati e necessari a difesa della popolazione e dell'ambiente. Con i nostri parlamentari vigileremo affinché i diritti dei cittadini nisce mesi vengano tutelati. Un nisce mese di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti, è stato arrestato e collocato ai domiciliari dalla polizia. Si tratta di Giacomo Buccheri. Il ragazzo è scappato durante un controllo degli agenti, sfrecciando a folle velocità tra le vie cittadine e finendo la sua corsa contro la vettura di un automobilista afferendo tre agenti. Buccheri deve rispondere di violenza, resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali colpose, danneggiamento aggravato continuato. Dal 24 febbraio, data dell'ultimo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico ad oggi, sono trascorsi 20 giorni ed in 20 giorni il silenzio del governo regionale è risultato preoccupante ad ogni singolo lavoratore, ad ogni esodato e a tutti i cittadini, a tante imprese che vorrebbero evitare l'utilizzo dell'istituto contrattuale del licenziamento e magari richiedere la cassa integrazione. Questo è l'unico argomento che il governo nazionale ha scaricato sulla regione siciliana e questo è l'unico tema che l'assessorato regionale al lavoro dovrebbe trattare in modo prioritario così da evitare altri licenziamenti e così da fornire una risposta concreta a quasi 100 lavoratori dell'indotto Eni, Gela e Sodati, cioè privi di ogni sostegno al reddito. E quanto ribadiscono i sindacati Cigelle e Cisle Will in una nota, siamo, dicono, all'ennesimo evento che ci costringe a dire le cose come stanno e a dirle senza tentennare. Il sindacato dei lavoratori ha il dovere di dire le cose come stanno ed ha nel contempo la responsabilità di proporre soluzioni pur sapendo di non avere poteri straordinari, come ad esempio dare autorizzazioni o fornire coperture finanziarie. Il verbale della riunione al Ministero dello Sviluppo Economico dello scorso 24 febbraio, sottolineo nei sindacati, diceva due cose importanti essere dichiarati area di crisi complessa non consente un utilizzo diverso della legislazione riferita alla materia lavoristica la titolarità alla copertura dei fondi richiesti a beneficio del lavoratore dell'indotto Eni, Gela e della regione siciliana. Il sindacato confederale e le categorie del settore industria in questi 20 giorni hanno sollecitato la regione hanno interloquito con la prefettura, hanno definito la convenzione con la banca per agevolare il pagamento della mobilità ai lavoratori con cadenza mensile, hanno incontrato l'Inps per mettere in liquidazione le somme maturate dei lavoratori ed hanno impegnato l'Eni all'avvio dei cantieri e da giorni sapremo anche quali e con quale numero di addetti. Mentre il sindacato fa, il governo regionale si fa attendere e la disperazione dei lavoratori e la crisi delle imprese aumenta. CGL e Cisle Will intendono evidenziare il lassismo che sta caratterizzando l'uso dei 32 milioni di alleni riferiti alle compensazioni e questo aspetto riguarda anche il comune titolare assieme alla regione del destino dei soldi. Ad oggi sarebbe importante un'operazione trasparenza, cioè rendere pubblico l'elenco dei progetti attuativi presentati. CGL, Cisle e Will invitano il governo regionale a mantenere gli impegni assunti fornendo immediatamente una data. I lavoratori e con il Cigela rivendica fatti e atti di responsabilità. Riapre, dopo la conclusione dei lavori di manutenzione dei locali, la sede distaccata della Camera di Commercio di Gela. Grazie all'impegno di tutti, amministrazione, consiglio comunale e sindacati, è stato riattivato un ufficio di vitale importanza per il comprensorio gelese. Lo dice Enzo Cirignotta, capogruppo consigliare del Partito Democratico. Domani mattina in municipio si terrà regolarmente la riunione con i vertici della Camera di Commercio per discutere della problematica della implementazione dei servizi e della stabilizzazione del personale precario. Incontro dibattito oggi nei locali dell'Istituto Comprensivo Enrico Mattei di Gela. I ragazzi hanno affrontato i temi della misericordia, del dialogo, della giustizia, della legalità, della disponibilità nell'aiutare il prossimo, della forza, della gioia e della speranza, condolino di Dio. Impegnato a Gela soprattutto con gli ultimi e nominato da sua Santità Papa Francesco, missionario della misericordia. L'incontro che si è concluso con una preghiera è stato coordinato da Don Emiliano di Menza, parroco della Chiesa di San Giuseppe di Niscemi e insegnante di religione. Noi però ancora una volta ribadiamo che i nostri valori, i valori di un cristianesimo millenario sono importanti, non sono importanti in quanto solo valori religiosi, ma sono dei valori che permanono la vita di ciascun individuo. Questo è il messaggio che noi vogliamo lanciare oggi in presenza di Don Lino, riflettere sulla misericordia, il cuore che si fa misericordioso nei confronti di chi ha meno di noi in un momento difficile per la città di Gela ma per l'Italia. E' questo il messaggio che noi vogliamo lanciare ed è questo che i nostri ragazzini devono portare a casa ai loro genitori. Don Lino, in fondo la misericordia è assolutamente aperta e più piccoli perché Gesù stesso nella sua vita ha dedicato gran parte della sua attività spirituale e umana ai bambini e ai ragazzini. Ebbè, Gesù stesso dice che dobbiamo farci piccoli e soltanto ai piccoli è possibile entrare nel Regno dei Cieli. E le caratteristiche appunto dei bambini sono quelle della semplicità e quello del chiedere, ma soprattutto quello dello stupore. Allora Gesù ci invita a riprendere in mano quello che è la gioia dello stupore. Prima delle vacanze della Santa Pasqua abbiamo deciso assieme, quando lei mi ha parlato, proprio di invitarlo con tutto il cuore per parlare e di annunciare ai bambini le sette opere di misericordia corporale in modo tale che anche loro, assieme al Catechismo, possono crescere, andare avanti ed essere nuovi educatori nella feda. In fondo, Preside, alcuni principi della Chiesa sono anche applicati nella scuola, l'inclusione, la solidarietà e la collaborazione. Quindi sono principi assolutamente condivisi. Beh, è quello che dicevo poco fa. Non si parla qua di religione, si parla di principi che sono anche i principi sanciti dalla nostra Costituzione. Se la scuola perde questa sfida, perde un'intera società. Ecco perché per noi è importante questo incontro. È importante perché il messaggio costante all'interno di una scuola, come diceva bene lei, è quello dell'inclusione. Un tempo si parlava di inclusione solo prospettando i diversamente abili. L'inclusione vale per tutti. Inserito nel programma delle attività sui 35 anni di Canale 10, Racconti di Mafia è il titolo di una serie di documenti che trattano un tema importante e delicato, come quello della mafia che ha insanguinato le strade gelesi tra la fine degli anni 80 e gli inizi del 90. Racconti di Mafia traccia un percorso importante, non solo della storia gelese, ma anche di quella nazionale. Durante il corso delle puntate vi sono importanti interventi di rappresentanti della magistratura e delle forze dell'ordine, diverse testimonianze di collaboratori di giustizia. La prima puntata di Racconti di Mafia andrà in onda domani alle 21 e in streaming sul portale tg10.it. In conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con 10 domande 10, ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia sarà l'ex comandante della stazione dei Carabinieri di Gela, il maresciallo Domenico Resciniti. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18. Adesso la linea va alla regia per la pubblicità, noi torniamo tra poco per la seconda parte del nostro telegiornale. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Giovedì 17 marzo alle 17.30 al Liceo Classico Eschilo organizzata dall'Uni3 preseduta da Angela Scaglione si terrà la presentazione del libro di Salvatore Buscemi. C'erano una volta i giochi, prevista tra gli altri la presenza dell'assessore comunale all'istruzione Licia Abela. È stato rinnovato il direttivo dell'Associazione di Protezione Civile Corpo Volontari per il Soccorso. Giuseppe Brun è stato riconfermato alla Presidenza, mentre il ruolo di Vicepresidente sarà ricoperto da Livio Aliotta, segretario e Paolo Mangione. Nel corso della riunione è stata ufficialmente deliberata l'apertura della nuova campagna Tesseramenti per l'anno sociale 2016-2017. La modulistica e tutti gli ulteriori dettagli sulle modalità di adesione, nonché le informazioni sulle principali attività dell'Associazione, sono disponibili sul sito internet www.corpovolontariperilsoccorso.it oppure sulla pagina Facebook Corpo Volontari per il Soccorso. Adesso parliamo di sport. La Serie D è sempre più vicina per il Gela. La formazione bianca-azzurra fa suo il derby con l'Atletico Campofranco e vince infatti per 5 a 2. Mancano soltanto 4 partite alla fine della stagione regolare. I punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice, la San Cataldese, sono 5. Ieri una partita giocata in un clima surreale per l'improvvisa morte di Carmelo Tuccio, fratello del presidente del club, Angelo. Vediamo. In un pomeriggio dedicato al commosso ricordo di Carmelo Tuccio, fratello del presidente del Gela, scomparso in settimana e che ieri è stato commemorato con un minuto di silenzio il lutto al braccio della squadra, fiori e striscioni da parte della curva Angelo Boscaia, la formazione bianca-azzurra vince in rimonta contro l'Atletico Campofranco rimanendo soldamente in testa alla classifica del girone A di eccellenza. Una vittoria meritata per buona fine compagni contro un avversario davvero tosto che sicuramente meriterebbe di stare in una migliore posizione in classifica. Tre punti che consentono alla squadra di Totò Brucculeri di rimanere a più 5 sulla San Cataldese e con un piede e mezzo in Serie D. Un'altra goleada nel secondo appuntamento di fila davanti al pubblico di casa dopo quello contro la Libertas terminato 6-0. Questa volta l'avversario, come detto, era di quelli tosti. Non a caso la formazione guidata da un volto conosciuto, come Andrea pensa bene, è partita subito forte andando in vantaggio grazie alla rete di Calà dopo una manciata di minuti dal fischio d'inizio. Una partenza bruciante che sicuramente ha spiazzato il padrone di casa ma che non ha demoralizzato la manovra offensiva dei biancazzurri che da quel momento in poi non hanno mai smesso di attaccare quasi infastiditi da quel gol a freddo. Una furia infatti la reazione dal Gela. All'undicesimo ci prova Mincica con un gran tiro al volo che il portiere Nisseno sventa deviando in angolo. Al diciassettesimo Scerra si divore il pareggio calciando da buona posizione in bocca sempre vivo. Al trentaduesimo il tiro cross di Mincica non trova la deviazione del capitano Bonaffini. Al quarantunesimo ancora un brivido per il Gela con Costa che si libera bene di un paio di avversari ma la sua conclusione a giro termina di poco a lato. Quando tutto lasciava presagire ad un primo tempo in svantaggio per il Gela ci pensa il bomber Nassi a saltare più in alto di tutti e a mettere la palla dentro con l'arbitro che fischia la fine del primo tempo. Nella ripresa il Gela preme sull'acceleratore alla ricerca del vantaggio vantaggio che si concretizza al decimo grazie all'autogol del difensore provenzano che tenta la deviazione sul tiro insidioso di Scerra ma la palla termina nella sua porta. 2-1 e gara ribaltata. Passano due minuti e padrone di casa calano il tris ancora con Nassi servito da Scerra. Il Gela viaggia a briglie sciolte e domina. Gli anni sotto al diciottesimo mette dentro la quarta rete ed il Campofranco sembra alzare bandiera bianca. Sembra appunto perché gli ospiti accorciano con il neo entrato a Zara. Il Gela non si distrae più e mette al sicuro il risultato piazzando la quinta e definitiva rete con Scerra bravo a spazzare via le critiche con una prestazione tutta cuore e qualità. Al triplice fischio i padroni di casa si godono i meritati applausi dello Stadio Presti con la curva che intona ancora una volta un bel coro in ricordo di Carmelo Tuccio. Successo dedicato interamente a Carmelo Tuccio. Un uomo hanno detto che ha dato tantissimo al club biancazzurro. Sentiamo le interviste che sono state realizzate a fine partita da Flavio Centamore. Dire che oggi il cuore era rivolto alla famiglia Tuccio è dire poco. Credo che i ragazzi abbiano anche mostrato un grande attaccamento alla squadra partecipando in modo assolutamente sincero e spontaneo a questo grande dolore che ha calpito la famiglia Tuccio e con essa tutto il gel a calcio. Questa mi darà l'occasione ancora una volta per dare la nostra più completa partecipazione al dolore della famiglia e dire che se il gel è arrivato a questo punto sicuramente il merito è di tutti ma prima di tutto della famiglia Tuccio. Quello che è successo in settimana è stato devastante anche tutto l'aspetto mentale però è chiaro che di fronte a noi abbiamo incontrato un avversario e nel primo tempo diciamo ha fatto una grande gara siamo andati in svantaggio, ho avuto una grande distrazione difensiva però fortunatamente alla fine del primo tempo abbiamo rimesso di nuovo la partita in gioco nel secondo tempo siamo entrati col piglio giusto e che poi sinceramente abbiamo dilagato però è normale che io e i ragazzi oggi ho chiesto una prova di carattere, una prova di cuore qualcosa di oltre per una persona importante che è venuta a mancarci e che sinceramente ancora siamo frastornati. Abbiamo fatto un ottimo prima tento contro una squadra che sapevamo quale difficoltà ci poteva creare abbiamo avuto anche la fortuna di andare in vantaggio e poi con ordine ci siamo difesi e potevamo anche ripartire forse il gol preso al 46esimo le ha un po' smontate e si sono un po' disunite però tutto sommato per me è sempre una prestazione positiva quindi questo poco da reale. Abbiamo altri obiettivi, ci dobbiamo salvare è una squadra che ho preso in corsa, una squadra fatta anche con dei limiti sotto certi aspetti ci mancava Polito che è un attaccante importante, Costa viene arrivata già a giornate squalifiche però penso che sia una squadretta che non facciamo barricate, cerchiamo di giocare a calcio penso che l'abbiamo fatto oggi. Come ha visto il Gelo? Ottima squadra, penso che merita in pieno la vittoria del campionato l'abbiamo visto già all'andata che avevamo fatto anche un'ottima partita però oggi ho visto una squadra fatta di giocatori, ci sono dei singoli importanti c'è un Maurizio Nassi che mi fa piacere rivaderlo, un professionista serio quindi un applauso a tutta la squadra e complimenti perché Gela in parte è rimasta dentro sotto certi aspetti quindi sono anche un tifoso del Gela Nel campionato di promozione torna a vincere il Macchitella Gela un successo che mancava dallo scorso mese di gennaio e che ridone il sorriso agli Aquilotti punti importanti in chiave salvezza quelli della formazione bianco-rossa nell'anticipo della 26esima giornata della competizione regionale giocata sabato contro il Marina di Raguse vinta per 3-0 uno scontro diretto che alla fine ha visto i padroni di casa avere la meglio sull'evanescente formazione ragusana sentiamo il tecnico Mirko Faustana Mr. Faustana era importante vincere il Macchitella ci è uscito con una bella prestazione in casa l'incantesimo spezzato delle sconfitte consecutive Sì, non vincevamo dal 17 gennaio quindi per noi era importante oggi portare i tre punti a casa contro una diretta concorrente bravi nel saper gestire la partita e comunque nell'approccio alla gara i ragazzi sono stati determinati fin dall'inizio perché volevamo portare punti importanti e merito a loro La salvezza adesso è un passo? Ancora c'è da fare secondo me altri sette punti quindi bisogna assolutamente vincere anche la prossima che ce l'abbiamo dentro casa e di conseguenza sperare anche che gli altri frenano il percorso che ce li siamo ritrovati dietro e quindi diciamo che la classifica si è accorciata alzando la media della salvezza Ma questo è un macchinella che ce la può fare secondo te? Sì, se giocano con questa determinazione io credo che comunque i ragazzi hanno dimostrato oggi di saper giocare a calcio e soprattutto che lo sono sempre stato convinto che i ragazzi meritano di giocare in questa categoria perché veramente stanno crescendo gara dopo gara ripeto che oggi è debutato anche il 99 quindi per me è un motivo d'orgoglio portare i giovani a giocare in queste categorie che è un trampolino di lancio per loro stessi Doppi turni comunque per alcuni giocatori che giocano anche con la formazione Juniors tra l'altro neovincitrici della fase provinciale Sì, bene, i ragazzi diciamo che l'80% della prima squadra è costituito di ragazzi della Juniors quindi merito a loro perché sono riusciti a fare diciamo benissimo nel campionato Juniors e fanno altrettanto bene nella prima squadra però in prima squadra c'è bisogno di più di più esperienze e convendo che un altro anno faranno quello che devono fare cioè nel senso che meritare posizioni più importanti Parla della Sicilia dal punto di vista femminile il film documentario Cose di donne che sarà proiettato al Cineteatro Antidoto il 18 marzo prossimo alle 21 con ingresso gratuito 6 storie di donne che hanno in comune l'essere nate in una terra fimmina per eccellenza con i suoi miti le sue leggende che si sono avvicendate sovrapposte nel tempo il docufilm di Lorenzo Daniele che ha vinto il premio Archeoblogger alla 26esima Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico di Rovereto e tra le donne protagoniste c'è l'archeologa gelese Angela Catani è presidente dell'archeoclub Giovani siamo all'informazione cinematografica e fuoco a mare il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela sono tre gli orari di rotazione della pellicola ve li ricordiamo 17.30, 19.30 e 21.30 sabato 19 marzo alle 21 sempre all'antidoto è prevista la rappresentazione teatrale è tutta una farsa commedia brillante in due atti di Emanuele Giammusso per informazioni 0933 82 27 07 oppure 338 714 32 93 i biglietti sono in vendita presso il botteghino tutti i giorni dalle 17 alle 20.30 è sempre sabato 19 marzo alle 21 al Teatro Eschilo la compagnia Liotro porterà in scena le sorprese del divorzio per informazioni 342 745 2695 oppure al botteghino del teatro bene è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione vi ricordiamo che notizie, servizi e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato grazie e buon inizio settimana a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.